Bravo! Brava, brava! Ecco qua la birra, con le salsicce. Giovanotto, qui c'è un qui pro quo. Cosa c'è qua dentro? Ma qua dentro non c'è niente, c'è un qui pro quo. Cioè, tu non hai capito quello che io ho detto? Io ho detto che volevo birra e salsicce. Beh, queste cosa sono? Birra e salsicce. E allora? E no, e no, perché io volevo dire e intendevo dire birra e salsicce. Ho capito. Un momento, torno stupido. Scusi, ma si figuri. Non vuole birra e salsicce. Cosa vuole? Birra e salsicce. Quanto gliene è questo? E due. E tu porto gliene quattro. E porto quattro. Ecco le birra e le salsicce. Giovanotto, 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 basta! Eh? Io ho detto birra e salsicce. Birra e salsicce. Eh? Così? Eh già? Io ho capito così. Vabbè, o così. O così, o così, di stesso. Fai lo stesso. Eh già? Allora un attimo vado a prendere. Scusi. Vengo. Allora un attimo vado a prendere. 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 Grazie a tutti